Ah, ah, ah! Affittasi delizioso monolocale, piano alto, vista campanile. È bellissimo. E quanti metri sono, scusi? Cento calpestabili. Certo che è molto conveniente. Sì, piena! Senti, un lontanissimo suono di campana. È molto romantico. Lo voglio sentire! Luminoso caratteristico semi-interrato, semi-arredato, ampia superficie calpestabile, adiacenza e metropolitano. Che bella cucina, guarda! È magnifica! Va bene, lo prendo. Ecco, qui c'è il contratto, signor. E basta una firma? Ugo! 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 Aiuto! Ugo! Ugo! Mi... mi scu... mi perdoni, ma... ma le ha detto adiacenza metropolitana. Ma questa è una stazione, adiacenza. Sì, signore. Ugo! 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 Guardi che sono! Ugo! 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 A causa di me! A causa di me! A causa di me! Permesso. Senta, avrei perso interesse all'affare. E no, lei gli ha detto la prendi. No, no, veramente. E adesso lo prende! Guardi, lascia il bra... Stop! Non può andare via! Ecco! Andiamo, Pina! Alla fine Fantozzi trovò una sistemazione quasi umana. e alle varie hinter Betty Rostro è una minoria di una fumazione di un'argezio e un'argezio che abilano, Un'argezio verso il'argezio. Ho! Un'argezio è unauna di forte che in un'argezio per un'argezio di una fumitàED. Cosa, una simila di una fumità di un'argezio e un'argezio di un'argezio di un'argezio, Ugo, prepariamo la tavola. Io sono qui. Ugo, dove hai messo la spesa? Lola, tassa, mi vedrà sopprendo di questo. Ma, Vina, cosa vuol dire la lingua straniera? Danger? Pericolo.